Un intricato percorso sotterraneo, fatto di cunicoli e caverne, nascosto nel ventre di una collina presso Genga, in provincia di Ancona, scoperto grazie all'intuito e alla passione di un gruppo di speleologi marchigiani. Nel 1971 sette giovani del club alpino italiano entrano in una cavità, che poi chiameranno Grotta del Vento, attraverso una buca nel terreno. Notano che una forte corrente d'aria esce da una fessura sotto i loro piedi e continuano a scavare nel buio fitto del sottosuolo. Ma non hanno idea dell'enorme spazio vuoto su cui stanno sospesi. Capiscono di aver trovato qualcosa di grande quando, lasciando cadere un sasso, questo ci mette cinque secondi a raggiungere il fondo. L'immensa caverna, ribattezzata Bisso Ancona, è alta 200 metri e talmente ampia che potrebbe contenere addirittura il Duomo di Milano. Seguono anni di esplorazioni che portano alla scoperta di nuovi spazi collegati tra di loro, cunicoli, pozzi profondi e laghetti. Durante la ricerca capita che gli speleologi addirittura si perdano, ripetano lo stesso percorso, non riescano a trovare l'uscita. Come quando arrivano alla cavità a cui danno il nome di sala dell'infinito. Sottoterra c'è molta umidità. Le gocce d'acqua colano lente e inesorabili dalle pareti e dal soffitto e si depositano formando stalattiti e stalagmiti che si sviluppano creando colonne dalle forme casuali e stravaganti. Gli speleologi si sono divertiti a battezzarle con nomi bizzarri. La statua della libertà con un pappagallo, l'orsa, i giganti, la spada di Damocle, la fetta di pancetta, la fetta di lardo. Laggiù, al buio, al riparo dalle intemperie protetti da una temperatura costante, vivono molti animali, tritoni, geotritoni, diverse specie di pipistrelli, salamandre dagli occhiali e il nifarbus ictus, un piccolo crostaceo che sguazza nelle pozze d'acqua. Dal 1974 le grotte di Frasassi sono aperte al pubblico per un breve tratto. Tutto il resto si può solo immaginare come un mondo nascosto sotto i nostri piedi.